Ragazzi, è il momento di mettere tutti i pacchettini sotto. It's time! Nicolele hanno l'ordine categorico di non uscire dalla stanzetta. Voi non vi muovete da qui, eh? Buonanotte! Buonanotte! Notte, Nico! E buon Natale! Buon Natale! Buona vigilia! Avete mangiato bene stasera? Sì? E pancine piene? Quante cose abbiamo mangiato? Tantissime! Un sacco di antipasti, gli spaghetti col pesce, tutto buono! Buonanotte! Buon Natale! Olè! Buon lavoro! Benvenuti! 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 Marcina previne! Benvenuti! 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 forse non c'è il canettone è a posto una nosatina basta così ok? allora vai a fermare il video pensaci tu metti la zappetta buon Natale buongiorno Bia buon Natale buon Natale si è Natale andiamo a svegliare tutti andiamo corri corri Max Ricky di qua chi c'è? oh Nico e Elena Bali buongiorno buon Natale hai svegliato tutti Bia? andiamo dai andiamo andiamo sì ecco questo andiamo non capisce se c'è qualcosa di interessante andiamo 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 a vedere l'albero no lei pensa a un altro andiamo pensa di uscire wow ciao Stella che pepettino venite 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 aiuto 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 guarda quanti regali ci siete è il grande momento ok venite via ti regalo di buon Natale anche a te regalo di Natale per via non arriva a santo Stefano non arriva a santo Stefano non arriva a santo Stefano copriamo apriamo qui bisogna metterci subito qualche soldino guarda un attimo e controlla bene c'è lo zico ho capito no in realtà ero nella parte giusta però bello che bello che è perché sono molto sfortunato brava bravissima questo è il regalo più importante per Valeria wow che bella questo subito la uso eh sì non sai che avventure adesso te le raccontiamo ma secondo me è l'altro regale più importante ah Max 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 bella ah poi con doppia zitta sì avevo un po' timore ma è un po' della generalina la generalina è grossa così mamma l'ho vista che ce l'avevi sulla storia di Instagram si con partivare mi fissa con le cose con le stelle eh sì molto egocentrica che bella dobbiamo aprirla ah sì e poi ti raccontavo bene la storia della wowina e lenina uuu allora apriamo insieme ahhh e magliettine uguali ahhh e magliettine uguali questo era l'altro colore che ti piaceva vero nico cosa hai trovato la cover viola che bella che è viola bellissima bellissima viola Max Max continua la saga mi bacca dei pantaloni dovremmo provare a vedere con dei pantaloni e intanto lei parte e corre e va la più felice di tutti buona ma lei che bella che completino ecco che belli sai che li volevo per fare una versione seria quando ci sono i colloqui di diversità ah ma dai ho paura un po' per la misura provali perché ho paura che siano un po' grandi però prova sono di un morbido comodo grande caldo caso mai facciamo il reso prendiamo la misura più piccola questo è per noi due in realtà ah per noi due per noi due ahhh wow quindi lo possiamo aprire insieme perché è doppio dentro ah è doppio grazie come ti avevo anticipato ho usato la scuola per farmi anche l'auto regalo così ci cambiamo uguali wow mi piace avere le cose belle dei macchigliuole spero che tu non ti abbia molto simile però se lo orecchini e anellini piccolini con la scuola con le 19 che si mette dentro che belli grazie grazie che belli non sei anche la parte mia adesso prova a mettermene subito e tendo a pensare che ti vuole un po' di impegno si allora le metto dopo grazie sono perfetti sono perfetti? bene se non le andrebbero strette ah bene non ti scappano dietro? no no infilarle infilarle ma vera perché sono un po' strette perché sono strette io avevo sti dubbio che posso non so che l'ho provata anch'io no allora stavo leggermente lunghe ma sono giuste di filarghetti ah ok e i sanguinizzo si non ti scappano dietro ok al limite si mettono yeah Nico Nico sei contento la pianonina che grande che pensassi questo l'ho fatto con le mie manine e burro di mandorle che brello che brava questo qui mamma mia 100% mandorle questo di chi è? questo deve essere Elena Elena perché l'ha fatto gioia quando il tu aspetta perché avrei un regalo sulla N26 è bello mobilo grazie prego abbiamo scelto i vali insieme la modella è stata e te stella ancora una cosa anche tu ti piace bene ti va bene di misura hai ancora questi due regali quello che ho avuto un grande suggeritore probabilmente l'ha già capito vabbè se tu sei suggeritore il tema forse è l'opera di nick il giusto lo scallendario con le foto di nicolavernaldi.com questo me lo appendo poi a casa sono tutte foto di console in realtà la cosa principale è che è un posto di beneficenza però ci sono anche le console belle ah bene bene bello ma è bene le foto questi sono i miei con il giocondizio bene bello bello e ancora uno perfetto l'ho provata mi sembrava adesso me la provo aspetta prendo io si ok guardate che bel colore i auricolari verdi aspetta che mi abitino così si vedono bene bellini via buon natale via buon natale buon natale a tutti buon natale buon natale via il tuo primo natale